Buongiorno, questo è il giorno dopo la dunata dei Alpini a Trento. Volevo fare un video per quei appassionati di storia, soprattutto anche per i Schutzen, ma per i Kaiserwieger, Stan Schutzen ed altri. Ora, ho visto degli articoli ieri sulla dunata e anche di commemorazioni di chi ha visitato anche il monumento ai caduti. Ora, voglio essere tranquillo, semplice e rilassato, perché tanti ha paura perché il primo non è uno che dice le robe, ma mi dico quelle che so e quelle che è la mia passione, che mi porta a studiare la storia. Allora mi leso sul giornale, Pene Unite, la sfilata di Schutzen e Alpini, no? Vede questo? Ok. La riconciliazione Alpini e Schutzen. Vedete questo articolo? Dopo i Val, i Cimiteri, Schutzen e Alpini. Qua che era compagnia del roveretto, no? Allora mi dico, ma perché noi non ancora far confusione nella storia? Perché la riconciliazione si è presente ai Schutzen? Ma le do robe diverse. Gli Alpini le è un esercito, e Schutzen non è mai stato un esercito. Ora, ma come si fa a confondere ancora? Se mi volevo la prima pagina, ho tutte le televisioni d'Italia che parla della compagnia Schutzen de Trenti. bastava che mi presentasse al cimiterio, allora quando mi matterei là ieri, con tutta la compagnia al completo, marciando e sfilando, che arriva e, madonna, che se via sta, tutte le televisioni d'Italia che non parlava d'altro che della compagnia de Trenti. Ma non è questo noi che volene cercano. Cioè, quando si fa una roba del genere, ma chi è che doveva essere con gli Alpini se proprio i Gettini va a fare una roba insieme? I Kaiser Jäger, l'esercito. Cioè, i Kaiser Jäger, Kaiser Schutzen, quel che voleva, l'era, l'esercito, i Schutzen. Noi che c'entra niente sul discorso, sul piano militare, Alpini e Schutzen. Noi che c'entra. Cioè, odiamo delle informazioni corrette. Anche noi, Schutzen, che dovessero essere quelli che portano avanti la storia. Dovendo dire cosa che l'è, perché noi erano nella protezione civile, d'accordo che l'Andibel del 1511 li aveva riconosciuti come difensori delle proprie comunità, del proprio territorio. Ma se che era da fare un paragone ieri, l'era quei Kaiser Jäger che doveva essere l'esercito austriaco dell'impero austro-ungarico e che gara dentro che tutti i nostri tirolesi, trentini, perché che ne avevamo da tanti noi all'impero austriaco. Allora mi dico, c'è cercante di metterle carta in tavola giusta. E non avevamo bisogno di andare in televisione sui giornali a dirle robe non corrette. I alpini, i nevamessi, sul discorso Kaiser Jäger, se volete, sotto il fatto militare, ma sicuramente non è coi Schuster. Noi avevano solo difeso il nostro territorio. E allora non avendo a pacificarne su ste robe, c'è una roba completamente diversa. La storia bisogna spiegarla come che l'è. I Kaiser Jäger non era ieri. E questi l'era quei che doveva rapportarsi con i con i alpini. Vedo robe diverse. Guardami questo piccolo video, il Fagosol, per dare una piccola informazione storica che sta creando ancora confusione. Cioè qua anche la discussione della dunata alpini la doveva essere messa su tirolesi e alpini, perché l'esercito è invasore e i tirolesi, cosa che ha subito. Ma fare articoli di questo tipo dove mettere in demetri su, sbagliatissimo, non è storico. Mi dispiace dirlo, anche se l'era il Landeskommandant che si rappresentava, che era questo, ma a volte si può sbagliare, ma bisogna stare attenti quando si parla della storia. Salve a tutti, questo dovevo a tutti gli amici e amanti della storia.